E vabbè, e vabbè, e vabbè, 4! 4! Vinciamo anche questa! Grazie Napoli! Penso che oramai i complimenti a questa squadra siano anche finiti perché sinceramente non so più nemmeno quello che devo dire io in questi video post partita 4-0, facile facile, nel secondo tempo voglio dire che mi stavo per addormentare perché ragazzi proprio non c'era più niente da giocarsi, non c'era proprio più niente da giocarsi nel secondo tempo Grandissimo Napoli e la cosa più bella è vedere proprio queste scene finali che vanno a salutare i tifosi perché penso che ci sia tutto solo bello in queste scene Ragazzi, prima di iniziare con il post partita scaricato numero 10, link in descrizione, la migliore app sul calcio Oggi viene a segnare un ragazzo di nome Tangaindombele che io sul mio profilo Instagram avevo detto deve giocare titolare oggi Non ha giocato titolare ma ha segnato qualche segno per questo ragazzo oggi ce l'avevo Grande Tangaindombele, grandissimo primo gol in Serie A Napoli che stravince, semplicemente gioca una partita dove tante azioni le abbiamo giocate proprio di rimessa degli errori del Torino Perché ragazzi, un Torino imbarazzante oggi, un Torino imbarazzante Io non avrei mai visto quest'anno una squadra sbagliare così tanto Ho visto tanti errori dello Spezia quando vincemmo 3-0 alla Spezia ma una squadra sbagliare così tanto in casa Mai vista quest'anno Torino veramente inguartabile oggi Passando a quello, devo dire che il Napoli ha con una facilità immensa trovato i gol, trovato le azioni, trovato il tutto facilmente Bravissimo Simen che anche oggi fa due gol, questo giocatore va per i due gol a partita E penso che vada esaltato giustamente perché sta facendo una stagione che con due mesi di infortunio è stata grandiosa Complimenti a Victor Simen che si merita tutto, tutto, tutto quello che sta facendo Bravo Victor, qua la Schelia si guadagna rigore e segna rigore E poi ragazzi, Don Bele come già detto Grande Napoli che oggi ha semplicemente giocato una partita con la testa Dove vedendo gli errori del Torino ci siamo messi con un giusto pressing, con una giusta organizzazione E abbiamo vinto la partita in tutta tranquillità Il Torino oggi ha sbagliato innanzitutto la prima costruzione Perché vedevi il Torino che in possesso palla proprio nella propria metà campo Perteva palloni orizzontali, cioè proprio il disastro totale E il Napoli ne approfittava in tranquillità veramente facilmente Devo dire anche che mi sono piaciuti tutti ma specialmente vi ha fatto un ringraziamento particolare oggi alla difesa Che ha fatto un lavoro di sacrificio sempre Perché il Torino dopo che siamo andati in vantaggio 1-0 ha avuto 2-3 occasioni interessanti Non mi è piaciuto il Ciuchilozano che oggi secondo me non ha fatto né bene la fase offensiva né quella difensiva Sarà un mio pensiero ma oggi non ha inciso lì davanti Poteva fare più gol E non ha inciso dietro perché Di Lorenzo molte volte si è trovato da solo e il raddoppio è arrivato sempre in ritardo Per cui oggi male il Ciuchilozano Io non l'avrei fatto partire di Dolare Sicuramente io oggi avrei optato per Politano Mio onestissimo parere per dirvi quello che io oggi avrei scelto La difesa ai difensori ripeto Rachmani oggi ha fatto un lavoro sporco, importante Un lavoro di contenimento, anche di marcatura importante Kim invece è molto più in uscita, un po' più appariscente Ma perché ragazzi vedete Kim è più appariscente fisicamente in modo in cui va a strappare la palla al difensore È un po' quel difensore leader Rachmani invece è quel difensore che tante volte non viene sottolineato Ma fa un lavoro importantissimo Io Rachmani ho un filo che sto seguendo all'inizio anno Io l'ho criticato sempre molto È un giocatore da cui mi sono sempre aspettato di più Però adesso io nelle ultime partite non gli posso dire niente Per questo sta facendo un lavoro importantissimo Gli vanno dati i meriti Gli vanno dati solamente i meriti per il lavoro che sta facendo Per cui bravissimo Amir Rachmani A cui vanno dati solamente i meriti di quello che sta facendo Complimenti, bravo Oliveira mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto fisicamente Ho visto un buonissimo giocatore Oggi ho anche migliorato tatticamente Perché l'ho visto scambiare bene con il resto della squadra E ha servito anche l'assista Osimène Per cui penso che di meglio non potevamo chiedere E un Napoli che allunga sempre di più in classifica Al momento siamo a più 21 Aspettando l'Inter Aspettando la Roma Aspettando la Lazio Aspettando la Juve Aspettando i big match che ci riserveranno Il resto della domenica Per cui possiamo essere felici Perché abbiamo comunque allungato su qualcuno Non si sa chi ma abbiamo allungato Per cui grande Napoli più 21 Troppo felice di questa squadra che sta facendo un percorso straordinario Volevo un attimo prendermi un minutino Visto che oggi c'è veramente poco da dire in questo post partita Per commentare il sorteggio Champions Perché venerdì come sapete io vado a scuola Il sorteggio a mezzo giorno e un quartio Già si sapeva qual era la squadra Per cui non vi ho portato il video Perché mi si è fatto darti No abbiamo beccato il Milan Allora io penso Ho sentito molti tifosi esagerati Esultare addirittura A dire non sono nessuno Ho sentito gente esultare Cosa che non condivido per niente Penso che si possa essere contenti Diciamo di non aver beccato Manchester City Valle del Monaco Real Madrid Penso che su questo fronte qui Si possa essere assolutamente felici Però ci vuole equilibrio Perché beccare una squadra italiana Non è mai la miglior cosa che ti può capitare Però Meglio aver beccato il Milan Che quell'altra squadra Però troppo esagerati Quei proprio tifosi Che hanno veramente Sono andati a esultare Secondo me Un po' anche esagerati Abbiamo beccato il Milan Direi Giusto Ce la giochiamo Andate in ritorno E si spera di passare il turno Anche perché poi Se l'Inter Dovesse passare con il Benfica Un'italiana sarà in finale di Champions League E questo È motivo di grande orgoglio Per il nostro campionato Che sempre viene criticato Ingiustamente Grazie ragazzi Troppo felice Sia Per il percorso che stiamo facendo In Champions League Sia per quello che stiamo facendo In campionato Grande Napoli Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Di questo Torino-Napoli Finita 4-0 Per gli azzurri Lasciate il like al video Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per non perdere i nuovi contenuti Ragazzi Cerchiamo di arrivare Il prima possibile A 2000 iscritti Dai Non ne mancano tanti Sto regalo di 2000 iscritti Fatemi E inoltre Come vi avevo già detto All'inizio del video Scaricate il numero di ETS Perché non solo Trovate News sul calcio E risultati Trovate anche Dei commenti Proprio video Formato video Di youtuber E di influencer E tra cui Troverete anche il mio Se riuscirò a portarvi Le pacelle Ve le vorrei portare Sul numero di ETS Per cui potete trovare Le mie pacelle Sul numero di ETS Se riuscirò A portare Dovresti riuscire Dovrei riuscire Per cui Fateci un salto E scaricate l'app Tramite il link Che trovate Nella descrizione Del video Questo Napoli Ragazzi Non molla Questo Napoli Vuole raggiungere Degli obiettivi importanti Che a inizio stagione Non erano pronosticati Stiamo dando il massimo Tutti Anche noi tifosi Oggi una cornice Spettacolare All'Olimpico di Torino Grazie ragazzi Grazie Napoli Anche oggi Napoli Ha vinto Un saluto Una buona armata Forza Napoli sempre